Buonasera e benvenuti amici di Mondo Futsal alla finalissima del terzo Memorial Angelo Marra di fronte Lantares Global Team Maglia Bianca e Ronny Team Maglia Viola si resta però 0-0 questa finalissima del terzo Memorial Angelo Marra Crash da sinistra, prova a passare e colpisce la traversa l'errore di Marcato riesce in qualche modo a salvarsi quindi in mesi, con il destro il vantaggio di mesi Panzariu, prova a Panzariu a passare, attenzione al palo colpito da Anu ancora Panzariu con il destro viene fermato poi Crash un trova il pareggio occhio a Panzariu che con il destro prova la conclusione, Marcato gli dice di no poi la conclusione da parte di Denis Pardo che trova il 2-1 di nuovo vantaggio per Antares Global Team, tunnel di Pardo per i mesi che prova a passare, serve di noi, attenzione a di noi in mesi, 3-1 pronto Crash un contro Marcato va Crash un marcato, gli dice di no quindi Panzariu attacca lui, serve Grama, il pallone rimesso al centro e poi Grama accorcia le distanze, 3-2 ancora Crash un con il sinistro trova il gol del 3-3, l'invenzione Panzariu con il destro, poi Christian Pardo prova a ripartire Panzariu, trova il gol del 4-3 Panzariu, quinto fallo con messo dalla squadra a maglia bianca poi Grama, lei finte sposta il pallone ancora Grama e trova il gol del 5-3 Grama, poi di noi per Denis Pardo la conclusione 5-4, si riapre la sfida accorcia le distanze Antares Global Team Christian Pardo per il pari vediamo un po' va con il sinistro Pardo e c'è il gol del 5-5 Panzariu, quindi Crash un da sinistra prova a centrarsi, Crash un si accende poi Grama con il destro la deviazione di Marcato attenzione a Crash un, Crash un, Crash un, Crash un Panzariu in avanti, finisce la sfida si va ai calci di rigore va Crash un con il destro palo gol Manuel Pardo per Global completamente errata la conclusione di Pardo e termina fuori pronto il numero 6 Maglia Viola va Anu con il destro e fulmina marcato per accorciare le distanze per l'Antares va in mesi con il destro fa centro la rincorsa lunghissima di Panzariu e c'è la parata da parte di Marcato Cristian Pardo contro Marin va Pardo spacca la porta 2-2 va Visan spiazza Marcato 3-2 pronto di noi calciare va il numero 8 spiazza Marin Marin va Grama il pallone entra se segna si va oltranza se sbaglia ha vinto a ogni team e c'è il gol si va d'oltranza Foulaber contro Marcato va Foulaber e c'è il gol Tennis Pardo va il numero 6 e c'è il pareggio va Marin impiazzato prova a pareggiare i conti va con il destro e la parata da parte di Marin e finisce con il successo di Ronnie Team che fa suo il terzo Memorial Angelo Marra un